se 50 litri di ossigeno vengono riscaldati a pressione costante e la temperatura del gas passa da 25 gradi centigradi a 70 gradi centigradi quindi T2 70 gradi centigradi quale sarà il volume finale del gas quindi v2 per cui questo era v1 allora anche qui come nel problema precedente dobbiamo capire che tipo di legge devo utilizzare dato che ho una pressione uguale a costante la legge che applicherò sarà la legge di Charles e la legge di Charles mi dice che il rapporto tra volume e temperatura assoluta del gas è uguale ad una costante da cui posso dire che v1 fratto T1 è uguale a v2 fratto T2 benissimo adesso come sempre facciamo attenzione all'unità di misura qui io ho T grande quindi T espressa in Kelvin nei miei dati del problema io ho delle temperature espresse in gradi centigradi per cui le devo trasformare secondo la relazione T grande uguale temperature in gradi centigradi più 273 devo trasformare queste temperature in gradi Kelvin ok? ora come faccio? allora 25 più 273 uguale 298 Kelvin e poi faccio 70 più 273 uguale 343 Kelvin ok? quindi da questa relazione io mi sono calcolato le mie temperature assolute benissimo adesso v1 ce l'ho T1 l'ho trasformata T2 l'ho trasformata quindi ce l'ho mi manca v2 ok? devo trovare v2 come faccio a trovare v2 da questa relazione? me la riscrivo v1 fratto T1 uguale v2 fratto T2 v2 sarà uguale per le formule inverse a v1 fratto T1 per T2 ok? ho tutto posso sostituire 50 litri fratto 298 per 343 Kelvin Kelvin e Kelvin si semplifica 50 per 343 diviso 298 57,55 litri ok? adesso come sempre verifichiamo se abbiamo fatto correttamente il problema dunque la legge di Charles mi dice che il rapporto tra volume e temperatura è una costante quindi qui c'è una proporzionalità diretta cioè quando aumenta il volume aumenta anche la temperatura se diminuisce il volume diminuisce anche la temperatura ora la temperatura qui è aumentata perché il gas ha subito un riscaldamento quindi di conseguenza dovrà aumentare anche il volume vediamo se è vero volume 1 50 litri volume 2 57 litri quindi il volume è aumentato per cui ho applicato bene la legge di Charles e il volume 2